Salve amici sono Nikron e benvenuti nel quinto episodio di Crash Bandicoat livello upstream recuperiamo subito un altro idolo e questo livello ci permetterà di impersonare il nostro eroe ci ravagare verso un fiume stiamo affrontando le insili di questo fiume nel cuore della nostra prima isola alla ricerca per recuperare l'ennesima gemma vediamo se ci riusciamo cadiamo una vita facciamo esplodere altri mutti recuperiamo il secondo volto per ottenere poi il livello bonus su 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 e restare su quelle foglie significa scivolare giù a negare il nostro Crash non sa assolutamente ruotare e mi sa che qui non potremo prendere neanche la gemma ci sono dei diversi segreti eh abbiamo spiegato l'immortalità per approfittare del livello bonus se ne ho messo la pene va bene così vediamo che insidie ci pone questo bonus eh già direi più articolato del primo stiamo attenti un po' più su abbiamo già 27 vite e 13% di gioco aggiorniamo il nostro salvataggio abbiamo superato ben 5 livelli già continuiamo continuiamo vediamo la nostra cara amica fogliolina occhio, occhio, su, perfetto quante scatole abbiamo perso? tre, soltanto tre comunque qui amici si conclude il let's play ci vediamo al prossimo video, bye bye ciao